Resta sotto sequestro nei cantieri della Mareleaf di Fano il peschereccio croato di 12 metri naufragato a poche centinaia di metri dalla costa di Torretti di Fano alle 4 e 30 della notte tra il 27 e il 28 settembre. Tutta da ricostruire ancora la dinamica che ha portato il peschereccio con due marinai a bordo partito da Pola ad incagliare sulle scogliere soffolte a 200 metri dalla riva ed ad invertire poi la rotta per colare a picco con le falle aperte a 700 metri. Il titolare del fascicolo, l'APM, il sostituto procuratore Evalieria Cigliola della procura di Pesaro in un incontro avvenuto nella giornata odierna con l'autorità competente ovvero il capo del compartimento marittimo provinciale Maurizio Tipaldi ha chiesto un supplemento di indagine. Verrà analizzata una specifica strumentazione, un tracciatore di rotta, una sorta di scatola nera non in uso alla marineria italiana e per fare questo verrà appositamente dalla Croazia un tecnico specializzato per decodificarlo e rendere così disponibili i dati agli inquirenti. Il punto chiave che si cerca di ricostruire della questione è appunto la rotta tenuta dal natante dato che le perquisizioni effettuate alla capitaneia sull'Andrea una volta recuperato e tirato a secco sembra che non abbiano dato spunti particolari all'indagine. Perché il peschereccio partito da Pola con intenzione di pesca dato che avevano ancora issate a bordo tutte le reti? Mette il pilota automatico, i marinai si addormentano tutti e due prima di buttare le reti, solitamente questa è una cosa che si fa dopo e comunque uno rimane sempre sveglio, attraversa tutto l'Adriatico senza trovare un ostacolo, un'altra imbarcazione che li incrocia e si trova a 70 miglia nautiche dal punto in cui si doveva trovare? E perché una volta schiantatosi contro le scogliere i marinai non hanno fermato le macchine e lanciato l'SOS? L'Andrea ha toccato mentre stava avvicinandosi alla costa fanese o mentre si stava allontanando dalla costa. Tutte domande che attendono una risposta dalle indagini ancora in corso.